Siamo nei meandri di Parco Leonardo Qui Angelo, Alessandro e Mirko Andiamo a vedere cosa ci riserva questo posto Se può Ma leggi mio ombrello Porco tu Ok C'è qualcuno? Col cazzo Ok Andiamo là Ho perso l'uscita ragazzi Mi sto cagando in mano Spero di no Ma che è? Cos'è? Oh mio dio ma dove siamo? Ce l'ha scritto uscita Lì c'è un cancello C'è l'uscita avviciniamoci Guarda che cardia raga Una porta Entriamo 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 Un carrello Un carrello Magari dei soldi Sì Portamolo 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 ai carrelli Se ci riesci Sono niente Allora questo qui ragazzi Per governare Così si fa Andiamo ai carrelli Visto che non abbiamo la pappa Eh però raga Ci abbiamo Scarda su però Dentro l'ascensore Vediamo qua se stanno Abbiamo aperto la porta Aria video sorvegliata Scappate raga Scappate Scappate No perché? Io no L'ascensore no raga Perché? Sblocca Sono sicuro Ma è rotto raga Non c'è sta manco il numero Se c'è il numero Non lo spede Ciao Abbiamo questa porta Che dove eravamo noi Cos'era? Scappa 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 Oddio Mirko Mi è in pazzo Va bene il carrello Ti è piaciuto? Mi ha lanciato il carrello Ok Ok Ho perso l'uscita d'emergenza ragazzi Perché questa è un'emergenza Un cuoritoio stretto Andiamo Andiamo Impugamoci Aspetta 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 Premi L2 Prendi la mira Lamiro Vai 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 Vediamo come spara Pieno piano Io mi guardo le spalle Devi guardare C'è nessuno Perfetto Bene la porta Ne la porta Andiamo lì Andiamo lì Ragazzi Ne la porta Questa cosa non è? Questa è il punto di salvataggio Apri Altre morte Allarme incendio Apri Non si apri Non si apri Faccia un'altra scensura Che non funziona Nei che si accende Merda Oddio Non si apri Oh Ok Qua 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 Ecco Questa Questa 665 665 665 667 Perché non c'è il numero qui? Ce la porta Raga Piano 665 Un quarto Oh che rumore di merda Troppo grande Questa Questa Mezza Questa 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 Oh mio dio I graffiti Che cazzo è Una dolce Bombolette spray Guardiamo Dalla mela del leather Noi scappiamo Ok 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 Che impanicato Oddio Non si apriva più aeree giurma c'è pericolo questo pericolo brutto andiamo di amore appartamento ha chiuso forse la rivoluzione no entrammo dentro la stanza entro dentro qua la stanza entro dentro qua la stanza raga però non vorrei che poi non si apri più la porta se rimaniamo chiusi dentro temeno angelo prendi questo si apri quello si ci metti questo in mezzo si metriamo scappa è l'unico posto in cui possiamo andare tienila aperta tienila aperta ok andiamo andiamo niente no le scale scale raga scale andiamo angelo angelo andiamo scale andiamo dai vieni vieni una porta angelo sbrighi adesso sbrighi adesso sbrighi usciamo sono passé siamo fuori siamo fuori si ragazzi siamo fuori se l'abbiamo fatto se questo video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace Iscrivetevi, porco tu sto appena aiutato Lasciate un mi piace, un commento E iscrivetevi anche alla pagina Facebook Che trovate nella descrizione Ciao, voglio Potete anche aggiungerci su PlayStation Network Che tanto piove E niente, ci si vede nei prossimi video Qui Mirko, Alessandro E il nostro nuovo amico Angelo Bella ragazzi Ciao, voglio